Ciao Arianna e benvenuta. Sono felice di averti qui oggi a raccontare un po' quella che è la tua storia e il lavoro che abbiamo fatto insieme. Come prima cosa vorrei chiederti quali erano i sogni e i desideri che avevi quando hai deciso di lavorare con me? Allora avevo voglia di lavorare appunto su di me di ritagliarmi uno spazio personale in cui effettivamente affrontare certi blocchi che mi stavano dando fastidio che sentivo che appesantivano diciamo le mie giornate e avevo voglia di scoprire nuove modalità per crescere, per ascoltarmi e stare meglio. Ok Arianna mi ricordo che una cosa che mi hai detto all'inizio era proprio il fatto che sentivi di aver perso in una qualche maniera la tua direzione e la tua direzione d'anima, dico bene? Sì, sì perché io sono sempre stata affascinata, mi ha sempre interessato la crescita personale e quindi ho sempre, sono sempre stata un po' una ricercatrice in questo senso però come spesso accade un po' a tutti credo quando poi sei dentro alla tua routine quotidiana alla vita di tutti i giorni così viene un po' fagocitato da tutte le incombenze da quello anche che gli altri si aspettano da te e ti dimentichi un attimo di qual è la tua direzione cos'è che veramente ti fa battere il cuore, ti rende felice e in un senso senti che è proprio quello che ti riempie l'anima di gioia e ce lo dimentichiamo un po' e quindi ogni tanto fa bene ritornare dentro di sé e ascoltare meglio con più attenzione quella voce interiore, quella pulsione verso qualcosa di intenso che ti fa felice ecco Benissimo Arianna, senti invece quali i risultati senti di aver ottenuto da questo percorso insieme? Sicuramente ho molta più serenità, anche più coraggio, più forza nel senso che ho riscoperto e forse conosciuto anche con altri occhi, con un'altra maturità parti di me che sapevo che c'erano ma erano un po' sopite ecco me l'ero un po' dimenticate, una cosa insomma che è venuta fuori secondo me dal nostro percorso è proprio il fatto che ciò che mi riempie di gioia è mettermi al servizio degli altri insomma portare il mio contributo e quindi anche il coraggio di rimettermi in gioco e di essere autenticamente me stessa e provare a fare del mio meglio per stare vicino alle persone che quotidianamente incontro questo è stato un regalo che mi ha fatto questo percorso perché mi ha fatto sentire ancora di più quanto è forte questa mia volontà questo mio desiderio, insomma in un senso missione tra l'altro se non erro sono proprio successe anche delle cose durante il percorso che ti hanno spinto in questa direzione sì sì nel senso che mi ha proprio dato il coraggio di chiedere e quindi di farmi vedere e quindi mi è capitato appunto di essere selezionata come staff per dei corsi di crescita personale con dei professionisti che stimo e ammiro e che mi hanno formato anche nel passato e quindi sì molte porte mi si sono aperte ma più che altro perché diciamo sentendomi più forte anche più coraggiosa e più in un senso affamata di seguire quella che è la mia vera strada mi sono forse proposta di più ecco senti Arianna un'altra cosa che volevo chiederti è questa con il mio percorso hai fatto un investimento importante e a livello di denaro oltre che di tempo e anche di impegno ovviamente di fronte a una persona che magari pensa che questo investimento sia troppo grosso cosa potresti dire? Qual è stata la tua esperienza? ma in generale l'approccio il mio approccio è quanto vale il proprio benessere quanto si è disposti a investire proprio in termini di tempo di denaro per il proprio benessere quello che importa quanto vale questo percorso dal mio punto di vista rivolgendosi appunto a persone competenti che hanno studiato che si sono formate che a loro volta nel passato hanno investito soldi, denaro, tempo, risorse personali per formarsi questo appunto è fondamentale quindi rivolgersi alle persone più competenti e che ti possono offrire magari anche visioni o strumenti nuovi che poi uno si porta a casa e tiene in una sorta di cassettina degli attrezzi perché tutte le esperienze che facciamo tutti i percorsi che facciamo poi ci insegnano qualcosa su di noi sicuramente ma anche strumenti che poi non è che vengono dispersi, rimangono e uno ne può beneficiare in qualsiasi momento perché poi la vita è così, è ciclica e quindi magari ci sono momenti in cui siamo più forti, cioè ci sentiamo meglio, le cose magari ci vanno meglio altri momenti in cui magari o richiadiamo un po' nei nostri blocchi, nelle vecchie trappole oppure abbiamo un pochino meno risorse e forza però quegli strumenti che abbiamo appreso e perché magari ci sono stati mostrati da persone competenti ci rimangono e quindi secondo me è così, è importante investire su di sé e affidarsi però a persone competenti che quindi avendo fatto un percorso hanno secondo me ben donde di chiedere un corrispettivo economico più che corrispettivo economico bisogna fare però anche un investimento in termini di tempo e lavoro su di sé perché è vero che il professionista ti può stare accanto nel senso ti dà una mano, magari ti aiuta a toglierti da quella situazione magari in cui tu non vedi nient'altro ti aiuta a fare un passo indietro, ti mostra degli strumenti che magari non conoscevi però è importantissimo investire su di sé perché è la persona prima di tutto che fa il lavoro che deve ascoltarsi con attenzione, non avere paura di quello che può scoprire perché sono tutte risorse nostre interiori che abbiamo e diciamo che questi strumenti ci aiutano a riscoprirle ecco Assolutamente Senti Arianna ti chiedo anche un'altra cosa il mio percorso non è convenzionale nel senso che all'interno utilizziamo diversi strumenti come possono essere i tarocchi, le tecniche energetiche, lo sciamanesimo e questo a volte fa paura no? perché magari lo si relega a un certo ambito di pregiudizi, di superstizione e quant'altro ecco volevo chiederti come è stata la tua esperienza da questo punto di vista e anche qui cosa potresti dire a una persona che magari ha un po' paura di questo aspetto Sì, allora gli strumenti che tu utilizzi sono molto vari e fra questi appunto hai citato le tecniche ad esempio sciamaniche della tradizione andina credo che alcuni rituali facciano parte proprio antropologicamente di noi e quindi in tutte le tradizioni ci sono rituali più o meno radicati quindi è proprio si tratta di ritornare un po' a quello che è antropologicamente l'uomo e per cui alcuni rituali in realtà ci danno forza e sono millenni che vengono utilizzati detto questo vengono utilizzati comunque in una chiave sempre di crescita personale con un fondamento anche scientifico e quindi nulla a che fare con la superstizione perché è sempre la persona che si mette in gioco che sceglie anche che cosa tenere, cosa portarsi a casa quali sono le intuizioni che davvero mi possono far comodo nella vita di tutti i giorni e che cosa invece lasciare andare cioè secondo me niente ha a che vedere con la superstizione piuttosto che rituali nel senso magici non c'entra niente si tratta proprio di lavorare responsabilmente su di sé e scegliere cosa tenere e portare nella propria vita quotidiana e nella tua esperienza proprio personale e come hai vissuto queste pratiche energetiche sciamaniche mi è molto piaciuto in realtà perché perché si tratta un po' di ritornare alle origini e quindi sentire una comunione più forte con la natura con appunto anche con una dimensione più naturale dell'uomo più antropologica, arcaica in un senso e quindi riscoprire la potenza del qui ed ora e sentire che il fatto che noi siamo al mondo siamo presenti, la nostra presenza ha un senso ha una dignità e ci rende legati al tutto e quindi mi ha dato una grossa forza anche sentirmi parte di qualcosa più grande mi ha anche responsabilizzato perché in un senso ognuno di noi fa parte di questo mondo ha diritti e doveri di esserci in una maniera piena fondante e di prestare il proprio contributo quotidianamente con chi veniamo in contatto ma anche nel rispetto della natura di ogni essere senziente quindi degli animali, piante eccetera quindi è stato molto bello e le meditazioni e le visualizzazioni che abbiamo fatto insieme sono state molto molto potenti in questo senso Rianna io ti ringrazio veramente di cuore di esserti resa disponibile a raccontare quella che è stata la tua esperienza tra l'altro così l'augurio che ti faccio ma anche l'invito perché so che è così il lavoro che abbiamo fatto ovviamente non termina in quei 90 giorni del percorso perché continua la sua trasformazione dentro di sé giorno dopo giorno e quindi sono sicuro che anche in quel tuo percorso di crescita professionale e personale ci sarà una continua evoluzione quindi questo è anche un po' il mio augurio e ti ringrazio ancora tanto di questa tua disponibilità grazie grazie a te è stato bello lavorare insieme molto bello, stimolante e mi porto a casa tanti strumenti utili e una rinnovata energia e sicuramente più centratura quindi dopo questi 90 giorni mi sento molto più centrata rilassata contenta quindi è stato assolutamente un percorso piacevole prima di tutto e poi anche molto positivo in termini di risultato grazie grazie Arianna grazie a te ciao ciao